La curva epidemiologica è in discesa, ma meno di quello che avremmo voluto avere. Lo dichiara il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che oggi ha comunicato i dati della pandemia al Consiglio regionale riunito in seduta telematica. La scorsa settimana sono stati registrati 282 casi in meno rispetto alla settimana precedente, per un totale di 4848 casi. La curva scende in maniera più forte nella provincia di Ancona, inizia a scendere in quelle di Macerata e di Ascoli Piceno, ha aggiunto Acquaroli, ma è in salita nelle province di Pesero e Urbino e di Fermo. Il governatore ha confermato che non accenna a diminuire la pressione sugli ospedali. A Pesero e in altri territori l'accesso nei pronto soccorso rimane elevato, le terapie intensive sono occupate al 60% e bisogna mettere in campo delle sinergie tra strutture ospedaliere. Il presidente poi ha lanciato un appello alla cittadinanza e un invito all'Aula per chiedere la massima sensibilizzazione della comunità marchigiana per il rispetto delle norme anticontagio essenziale, ha detto per frenare il virus. D'altra parte prosegue la campagna vaccinale, altro tema al centro del Consiglio regionale. Rispondendo a un'interrogazione dei consiglieri del Partito Democratico, l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha ricordato la consegna di circa un milione di dosi nel prossimo mese, aggiungendo che il grosso dei quantitativi sarà collocato nel terzo trimestre tra luglio, agosto e settembre. L'assessore poi ha annunciato la possibilità di portare i vaccini nelle fabbriche, agli ordini professionali e alle altre categorie produttive tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Un provvedimento che è stato adottato nella conferenza Stato-Regioni e che prevede questa azione una volta vaccinati gli over 60, le persone con fragilità e disabilità gravi e i familiari che li assistono.